Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del TG6. Rinnovati i locali del Deospital Oncologico dell'ospedale Santo Spirito di Pescara grazie ad un'iniziativa della Dicesta Onlus e della ASL e grazie anche alle donazioni di enti e delle forze di polizia. Paolo Renzetti. Direttore c'è tanto di buona sanità anche in quello di cui si parla questa mattina per alleviare le sofferenze dei degenti del reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara? C'è tanto di buona sanità ma c'è tanto di buona volontà perché quello che oggi inauguriamo lo dobbiamo soprattutto alla capacità di una Onlus, la Dicesta, di convogliare finanziamenti, offerte, volontariato per realizzare quest'opera che servirà a far sì che le persone che praticano la chemioterapia possano praticarla in ambienti decisamente più confortevoli. Questa è una bella giornata non per noi, non per la gente che è qui ma per gli ammalati, questa è una giornata per loro, noi vogliamo migliorare la qualità della cura che offriamo ai nostri pazienti e anche tutta la parte dell'accoglienza quindi del comfort è importante perché i nostri ammalati passano in Deospital ore e ore e quindi consentire loro di stare nel modo migliore con delle possibilità di stare in poltrone comode per lungo tempo penso che sia una cosa molto utile e molto importante, abbiamo rifatto tutti i locali che sono stati rifatti completamente, quindi diciamo un piccolo passo avanti abbiamo reso con queste belle immagini più gradevole l'aspetto, certo c'è ancora tanto tanto da fare, assolutamente ne siamo consapevoli però questo è un primo passaggio. Carla Panzino una bella giornata oggi all'ospedale di Pescara, l'inaugurazione di questo Dei Hospital Oncologico. A Cipicchia è una giornata bellissima, emozionante, sicuramente gli occhi brilleranno a tutti noi volontari della ricesta perché la ricesta è inutile, è una forza e il volontariato è un elemento imprescindibile della nostra associazione così come la trasparenza sull'utilizzo dei fondi. Quindi un altro risultato è arrivato prima del previsto perché noi pensavamo 24 mesi, invece è arrivato a meno di 15 mesi da quando l'abbiamo promosso, ci sono tutti i nostri contribuenti, io li chiamo così, quasi 3.000 pescaresi hanno assistito alle nostre iniziative nei vari spettacoli che abbiamo fatto, pescaresi ma anche da altre parti d'Abruzzo. Insomma è un reparto nuovo, bello, pieno di luce, pieno di comfort e ci auguriamo che sia utilizzato il meno possibile perché è la cosa che tutti noi ci auguriamo ma comunque forse entrare qui c'è la differenza senza una nota o un'altra emotiva perché c'è l'accettazione del Dei Hospital che è dedicata in ricordo di mio marito con il contributo della Beckerius. Quindi un abbraccio a tutti quanti voi, stiamo già partendo con un nuovo progetto quindi tutti i nostri benefattori potranno darci un aiuto. Aiutiamoci a migliorarci tutti, grazie. La cronaca, una donna di 69 anni di Alba Adriatica è morta stamani mentre era a ridosso del mare. Secondo una prima ricostruzione la donna è entrata in acqua all'altezza dello stabilimento Waikiki, sempre ad Alba Adriatica, dove aveva un ombrellone. Ed ha iniziato una passeggiata a ridosso della riva all'altezza dello Scialela Primula, accusato un malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. Inutili sono stati i soccorsi immediati dei bagnini della cooperativa Costa Sicura e quelli degli uomini del 118 di Alba Adriatica che hanno tentato vanamente di rianimarla per quasi un'ora. Poi ancora due 26 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto all'alba all'uscita di via Tirino della tangenziale di Pescara, la SS 714. Secondo una prima ricostruzione i due giovani a bordo di una moto sono finiti fuoristrada andando a sbattere contro il guardrail. È stato un automobilista ad allertare la sala operativa del 118. I due giovani sono stati stabilizzati e trasportati al pronto soccorso e poi ricoverati, il primo presso il reparto di chirurgia toracica con prognosi di 60 giorni e l'altro in ortopedia con una prognosi di 30 giorni. Sul posto per i rilievi per ricostruire l'accaduto hanno lavorato gli agenti della polizia della squadra volante della Questura. Torniamo ad occuparci della vicenda delle palazzine sgomberate in via Lago di Borgiano. Oggi sono intervenuti i consiglieri di centrodestra a Pescara. Vediamo. Sulla situazione, su quello che sta accadendo dopo lo sgombero in via Lago di Borgiano, questa mattina il centrodestra ha portato sul tavolo le sue soluzioni, le sue proposte per un problema sicuramente difficile da affrontare. Io spero che sia vero che a settembre saranno messe a disposizione queste prime abitazioni rese agibili con 600 mila euro. Visto l'eseguità della cifra, potevamo farlo prima. In ogni finanziario noi abbiamo segnalato il problema della riqualificazione del nostro patrimonio edilizio residenziale popolare. Sta di fatto che non risolveremo certo il problema con 600 mila euro. Là si tratta di approvare la legge che noi presenteremo lunedì di spostamento dei fondi Masterplan sulle cose serie come la ristrutturazione del nostro patrimonio, che ricordiamo è il patrimonio della regione Abruzzo, delle case di edilizia residenziale pubblica, invece che spendere in tante sciocchezze di qua e di là. In più, se c'è oggi qualcuno che occupa un alloggio abusivo, deve immediatamente essere portato via, perché non è pensabile che ci siano famiglie sopra le brandine e abusivi che occupano le case che invece dovrebbero essere assegnate all'altra. Noi riteniamo che la regione Abruzzo invece debba fare un atto di forza, un atto di presenza, stanziando molti soldi, andando a drenare soldi da opere che non sono prioritarie, che sono presenti all'interno del Masterplan, perché per noi l'emergenza abitativa ha una priorità primaria e speriamo che quindi tutto ciò avvenga e secondo noi sarà anche fondamentale anche la presenza di un commissario ad acta per cercare un po' di fare il punto di unione di tutte queste riunioni che vengono fatte anche in maniera disordinata e lo stato di calamità. Nuovo passaggio di proprietà per la Saila, la storica azienda di Silvi finirà nelle mani della KTS International, gruppo industriale dolciario tedesco. L'operazione è in realtà più vasta e riguarda l'intera linea italiana che fa capo alla multinazionale svedese Cloetta, della quale fa parte anche Saila, oltre che altri marchi storici del comparto dolciario italiano, quali Sperlari, Dietor, Dietorelle e Galatine. Nel comunicato del gruppo svedese si legge di decisione presa alla luce della negativa situazione economica italiana e delle performance di Cloetta negli ultimi anni. Le trattative con Katjes sono iniziate dallo scorso gennaio. Il closing, che segnerà il passaggio definitivo alla multinazionale tedesca, dovrebbe definirsi a settembre sulla base di 450 milioni di corone svedesi pari a 46,5 milioni di euro. La Saila proprio quest'anno sta festeggiando gli 80 anni dalla sua fondazione. E sulla chiusura della strada provinciale 53 per una frana e sui disagi dei residenti, il consigliere regionale dei 5 Stelle, Domenico Pettinari, farà nei prossimi giorni in consiglio una interrogazione orale al presidente della regione D'Alfonso per chiedere uno stanziamento di fondi urgente. Strada provinciale 53 alle porte di Pianella, chiusa da sei mesi a causa di una frana. Consigliere Pettinari con inevitabili disagi per i residenti di Pianella che sono costretti ad utilizzare una strada comunale. Sì, è un'arteria principale che collega Loreto a Pianella, un'arteria frequentata da tantissimi cittadini, da imprenditori, aziende agricole. E' un'economia cittadina, possiamo dire, in ginocchio, perché da oltre sei mesi, a seguito di una frana, questa strada interdetta al traffico automobilistico. I cittadini sono costretti a percorrere una viabilità alternativa in una strada comunale fortemente, gravemente ammalorata, fatiscente, che metta in serio pericolo anche la vita dei cittadini perché non è praticabile. Ecco, noi abbiamo chiesto con questa interrogazione al Presidente D'Alfonso di stanziare risorse in bilancio, fondi da destinarsi alla provincia di Pescara per la messa in sicurezza immediata di questa strada. E nell'emore di questa operazione chiediamo l'installazione di un sistema semaforico che consente la viabilità alternata su questo tratto di strada provinciale perché la frana interessa solo una parte della carreggiata. Mi si consenta di dire che la previsione stanziare 13 milioni di euro per realizzare un ponte a Pescara che seppur bello ma non è necessario e poi lasciare in abbandono le aree interne è una vergogna. Abbiamo una serie di aree interne della provincia di Pescara completamente lasciate in abbandono. Questo va a gravare fortemente sull'economia locale, quindi il Presidente D'Alfonso deve capire che ci sono priorità, queste sono le priorità per la nostra gente. Speriamo che ci ascolti e metta subito mano alla risoluzione di questo problema. Il Lions Club di Teramo ha deciso di donare 11 gruppi elettrogeni e stazioni radio ai comuni del cratere maggiormente colpiti dal sisma e dalla neve. È un'iniziativa che permetterà in futuro a queste popolazioni di comunicare anche in caso di totale blackout elettrico. Tania Bonnici Castelli 11 gruppi elettrogeni e stazioni radio sono stati donati dal Lions Club di Teramo ai sindaci e alle proloco dei comuni della montagna teramana. Gli eventi calamitosi degli ultimi mesi hanno dimostrato quanto siano indispensabili sistemi alternativi da attivare in caso di necessità e di blackout delle reti tradizionali. Quando è successo il disastro a cavallo tra la fine dell'anno scorso e quest'anno abbiamo deciso di non fare la festa annuale della fondazione e di destinare i soldi a qualcosa sul territorio. In più degli amici di un club del Tirolo, dell'Austria, del Wörth, ci hanno mandato degli altri soldi. Abbiamo messo insieme e abbiamo pensato che la cosa più importante che è mancata in quel periodo è stata la comunicazione all'energia, sono state comunicazioni all'energia, energia minima, 2-3 kilowatt di energia con un generatore e una stazione radio in grado di funzionare possono a volte aiutare a salvare qualche vita. Dalle parole dei sindaci presenti alla cerimonia di consegna avvenuta nei giardini della provincia di Teramo è ancora viva la disperazione vissuta in quei giorni di gennaio, giorni di tempesta perfetta. Cosa è successo a Rocca Santa Maria durante la tempesta perfetta? A dire il vero è successo di tutto perché ci siamo trovati con quasi 3 metri di neve, con scosse sismiche a ripetizione, con epicentri anche relativamente vicini, ha creato il panico sicuramente nella cittadinanza. Per fortuna nel nostro caso siamo riusciti a far rimanere quasi tutti sul territorio, non c'è stato un effetto spopolamento dopo questo evento. Senza luce però? Senza luce per 5 giorni, anche se in alcuni casi, però e soprattutto alcune frazioni sono state riaperte dopo 6 giorni. Come avete comunicato con l'esterno? Nel primo giorno con grandissima difficoltà, nel secondo siamo riusciti a trovare dei punti dove riusciamo a comunicare con i cellulari e da lì siamo ripartiti per portare, riaprire le strade e comunque creare di nuovo una viabilità sicura sul territorio. Non dovrà succedere più. Difatti oggi siamo qui appunto per magari cercare di risolvere inizialmente questo problema con questa iniziativa sinceramente molto utile, molto bella, che potrebbe risolverci almeno parzialmente questo problema. E a Giulianova Barata la nuova giunta del sindaco Francesco Mastromauro, due le conferme, Nausica Cameli che resta vice sindaco con deleghe tra le altre a politiche sociali e pubblica istruzione, conferma anche per Fabio Ruffini. Sempre in quota PD entrano due volti nuovi Fabris Ruffini, delegato alle manifestazioni e alle politiche di sviluppo del turismo e Cristina Canzanese che si occuperà invece di risorse umane e di edilizia residenziale pubblica. Poi un nuovo ingresso in quota articolo 1, si tratta di Gianluigi Core, per lui tra le deleghe, quella importante ai lavori pubblici. Ascoltiamo le parole del sindaco Francesco Mastromauro. Dopo aver consumato i primi due terzi del mandato bis, era importante fermarsi un attimo, verificare se i gruppi consigliari avevano la volontà di proseguire e completare il programma e stilare il programma di fine consigliatura. Ho ringraziato il lavoro svolto da Francesca Guerrucci, l'ottimo lavoro svolto. Ci sono fasi nelle quali questo vestito su misura, gli assessori hanno un ruolo importante, ce ne sono altri nelle quali fasi ci sono altri assessori che svolgono il loro lavoro. Ma Francesca Guerrucci ha lavorato bene, così come ha lavorato bene Gianluca Grimi, che ringrazio perché aveva rassegnato le dimissioni per impegni ulteriori della sua attività lavorativa. Oggi nuovo slancio per questo ultimo percorso, per realizzare e continuare a realizzare i bisogni della città e per farlo con ulteriore lena. Già ho convocato la prossima maggioranza per martedì 11 luglio, nella quale discuteremo di variazione di bilancio e di ex-Sadam. Nel prossimo servizio parliamo di malattie professionali, lo si è fatto in un convegno organizzato dalla Will in Camera di Commercio a Pescara. Tavola rotonda in Camera di Commercio per parlare delle malattie professionali in Abruzzo. Direttore, qual è la situazione nella nostra regione? Noi nel 2015 abbiamo registrato all'incirca 15.000 infortuni, il 5.000 in meno rispetto all'anno precedente e il trend è un trend discendente di questi infortuni. Basta pensare che rispetto al 2009 abbiamo avuto una flessione di infortuni pari al 30%. Sarà perché l'Inail è brava a fare prevenzione, ma non dimentichiamo assolutamente che da molti anni noi siamo attanagliati da questa grande crisi economica che ha visto purtroppo chiusura di attività, licenziamenti, cassa integrazione e quant'altro. Per quanto riguarda invece gli infortuni mortali, il dato del 2015 è preoccupante. È preoccupante perché siamo passati da 32 a 39 decessi sul lavoro. Sono troppi, molti, anche se di questi 39, 11 sono avvenuti sulla strada, quindi con mezzo di trasporto o infortunini tinere da casa al lavoro. È un dato preoccupante che ci colloca come indice di frequenza tra le regioni meno virtuose dell'Italia. Per quanto riguarda le malattie professionali, questo è un dato, anche questo, un po' preoccupante. Dal 2009 ad oggi noi riceviamo tantissime denunce di malattie professionali, nel 2015 ne abbiamo ricevute oltre 5.000 e siamo la quarta regione in Italia per numero di malattie denunciate. Nel prossimo servizio invece parliamo del cambio al vertice della Pescara Parcheggi. Cambio al vertice della partecipata del comune, Pescara Parcheggi, il nuovo amministratore è Vincenzo Di Tella. Prendi il posto dell'avvocato Angela Summa che aveva preso le redini della società dal 1 gennaio 2016. La scadenza annuale è stata prorogata per l'approvazione del bilancio che ha fatto registrare un utile di 27.000 euro, numeri illustrati in conferenza assieme ad alcuni progetti avviati dall'amministratore uscente. In questo anno con un lavoro di squadra e grazie ai dipendenti tutti di Pescara Parcheggi che ringrazio pubblicamente siamo riusciti ad avere degli ottimi risultati anche legati a una serie di innovazioni e di perfezionamento del servizio con le tecnologie oggi disponibili. È stato attivato il servizio Easy Park con il pagamento della sosta con l'app telefonica, sono stati collocati dei parcometri che hanno la predisposizione, abbiamo già attivato i contratti per il servizio dell'utilizzo del Bancomat, abbiamo riqualificato delle aree, abbiamo aperto un nuovo parcheggio in via Fonte Romana, abbiamo fatto fare dei corsi ai dipendenti, c'è il progetto di automazione dell'area di risulta, il lato sud dell'area di risulta che è un progetto definitivo esecutivo approvato dall'amministrazione comunale. Si prevede un anno ancora più positivo e vorrei cogliere l'occasione di fare gli auguri al nuovo Presidente. Negli ultimi anni ho avuto un trend positivo, il mio obiettivo sarà quello di mantenere questo trend crescente, anzi cercando di renderlo più efficiente ed efficace e quindi aumentare gli utili della società. Ci sono un sacco di progetti e di idee in ballo e speriamo di realizzarli tutti e portarli al termine. La sottoscrizione della Carta dei Valori dà ulteriore impulso al premio Maiella che arriva alla sua ventesima edizione. Il concorso di letteratura naturalistica si svolgerà ad Abbateggio dal 20 al 22 luglio. Il Presidente di giuria sarà Michele Mirabella. Presidente Di Marco, oggi la presentazione di questa ventesima edizione del premio Maiella. È una giornata particolare che segna esattamente il tempo dei vent'anni e che consente al premio Maiella la sottoscrizione della Carta dei Valori e che condensa in realtà il lavoro di questi anni a capo di un'associazione, le falde della Maiella, ma grazie al contributo offerto a noi da Grazia Francescato e da Luciano D'Amico, il magnifico rettore di Teramo, che hanno appunto contribuito alla crescita ulteriore del premio Maiella. Ecco perché oggi la sottoscrizione della Carta dei Valori consentirà al premio Maiella di esercitare appieno la sua funzione anche nei prossimi anni, guardando con ambizione ulteriori riferimenti letterari nazionali e internazionali. Il premio si arricchisce sempre di più quest'anno tra la giuria e il Professor Mirabella. A lui è affidata di presiedere la giuria del premio Maiella che di per sé è di qualità, formata anche da Realacci, dal Professor Stoppa e tanti altri e quindi saranno giorni importanti quelli che andranno dal 20 al 22 luglio, quindi dal giovedì al sabato, anche per il borgo di Abbateggio dove inaugureremo il percorso letterario nel borgo che consentirà ai turisti, a coloro che verranno a conoscere il borgo, di lasciarsi andare anche nella lettura di alcuni brani a tema naturalistico e ambientale premiati appunto in questi 20 anni e quindi sarà bello visitare il borgo e lasciarsi andare anche con la lettura. Rinasce il borgo di Montesilvano Colle grazie a diverse iniziative messe in cantiere nel locale BR1 grazie alla presenza del noto chef stellato Enrico Recanati. Com'è nata l'iniziativa di rilanciare questo locale ma ancora di più il borgo medievale di Montesilvano Colle? L'idea di rilanciare il borgo è nata da una storia fondamentalmente di famiglia, l'acquisto da parte di mio padre e poi la ristrutturazione di questo palazzetto, un palazzetto del Settecento e che poi ha avuto una sua storia anche stratificata nel senso che in un primo momento, cinque anni fa l'idea era quella di dedicare fondamentalmente lo spazio all'arte, quindi abbiamo dato vita a delle manifestazioni che erano strettamente artistiche o anche teatrali, dei dibattiti politici e culturali. Poi con il tempo abbiamo scelto deliberatamente di avere una cucina a vista che permettesse l'espressione anche di chef e di cucina di ricerca e così è nata la nostra collaborazione tra arte e cibo e poi una ristorazione stabile che da questa nuova stagione si avvale della collaborazione per l'appunto dello stellato Enrico Recanati. Abbiamo sposato questo progetto dove io seguirò la parte della brigata di cucina del BR1, abbiamo messo due chef abruzzesi e due ragazzi molto giovani, molto vogliosi, molto interessati a quello che sarà la cucina del BR1. Questo gemellaggio mi sembra semplice perché comunque veniamo in una regione meravigliosa che è l'Abruzzo con dei grandissimi professionisti, grandissimi amici e quindi io porterò soltanto, guiderò soltanto dei ragazzi su questo progetto. Avvicineremo un po' a quella che sarà la mia cucina, quindi una cucina di brace, una cucina leggermente affumicata, con dei toni affumicati e questa unione mi è sembrata talmente semplice perché con i ragazzi stiamo cercando di studiare le due culture, la cultura marchigiana e la cultura abruzzese. Quali le analogie tra le due cucine, i punti di contatto? I punti di contatto sono due grandissime regioni con dei grandissimi prodotti produttori e grandissimi ristoranti, quindi l'analogia è quella, seguire soltanto un'attenzione massima alla materia prima e a quello che è il prodotto. Oggi l'inaugurazione a Loreto a Prutino della mostra fotografica di Michael Kenna, un grande artista che con i suoi scatti racconta l'Abruzzo. Michael Kenna sabato inaugura questa mostra a Loreto a Prutino, come mai ha scelto proprio a Loreto a Prutino per questo suo evento? Questo è un lavoro di due anni e il progetto è stato guidato, è stato organizzato da Vincenzo De Pompeis, quindi con Vincenzo De Pompeis la fondazione di Loreto a Prutino, quindi è naturale che l'evento sia fatto a Loreto a Prutino e comunque è un posto meraviglioso, quindi perché no? Invece l'occhio del fotografo che cosa ha visto in Abruzzo? La caratteristica descritta da Primo Levi dell'Abruzzo è che è forte e gentile e quello che lo ha colpito è la varietà dei paesaggi, le spiagge, le montagne e la ricchezza di tutti questi paesaggi. Intanto è la prima regione italiana a cui Michael Kenna dedica un lavoro, è uno dei più grandi fotografi di paesaggio viventi e quindi ci darà una interpretazione molto personale come nel suo stile di paesaggi anche noti ma anche ignoti. Questa è la chicca che corona questo progetto, viene ospitata all'interno del centro storico di Loreto a Prutino che è uno dei borghi che Kenna ha ritratto di più, ci sono tre foto ma anche sei foto di interni che lui ha fatto ed è un piccolo presepe, un gioiello, un paesaggio mediterraneo circondato da oliveti e questo a lui piace molto, il rapporto armonico dell'uomo con la natura. È tutto all'interno del Palazzo Casa Marte. Domenica 16 luglio al Cursal di Giulianova si terrà il concerto di pianoforte, violino e violoncello dal titolo sulle ali di un sogno organizzato da Unica Beach, l'evento da risalto al rapporto tra l'uomo e gli animali in un contesto musicale e artistico. L'idea del concerto che verrà fatto il 16 luglio è un evento unico che racchiude in sé l'unione tra la musica, il suono e la presenza del rapporto con gli animali che saranno poi animali particolari, sono rapaci e lupi. La motivazione per la quale viene proposta è proprio per la promozione dell'importanza del rapporto uomo-animale anche alla luce del progetto che sto facendo di pet therapy e accesa a prova, quindi nelle aree terremotate. Come argomento portante è l'effetto terapeutico degli animali e dell'arte sul benessere umano attraversando tramite la musica ma anche la scrittura perché verranno tratti dei brani dal libro di Giovanni Granati che è il falconiere che è il protagonista della serata. Nell'evento del 16 luglio ci sarà un incrocio di diverse arti tra cui l'arte della falconeria che spiegherò al pubblico e darò anche la possibilità di vedere alcuni dei miei animali dell'equipe falcon, tra cui gufi, assioli, aquile, falchi e anche un lupo ciecoslovacco. Tramite la natura cercheremo anche di dare la possibilità alle persone che sono presenti di ascoltare con la musica del pianoforte, del violino e del violoncello quello che la natura in qualche modo vuole comunicarci. E la cooperativa ETA-Beta a gestire il chiosco a ridosso della Madonnina a Pescara nei giorni scorsi è stato illustrato il calendario di eventi estivi in quella che è stata denominata Playa Paloma. Una delle importanti novità di quest'estate è che le spiagge libere iniziano, anzi finalmente, a vivere. Per noi una spiaggia libra, specie una collocata così in modo interessante come quella della Madonnina non potrebbe essere una spiaggia lacea da se stessa. E quindi la cooperativa ETA-Beta ha creato un programma di eventi legati al sociale, alla cultura, allo spettacolo, all'approfondimento che farà vivere questa spiaggia libra così bella e centrale nella nostra città. Abbiamo avuto un'attenzione su diversi aspetti. Abbiamo una sorta di cartellone teatrale estivo che sono delle narrazioni accompagnate da musica. La stagione è stata aperta da Ora Quartet con Sarabanda Postcomunista, continuerà con la Compagnia della Polvere e le loro letture inframmezzate da musiche. Ci sarà l'Accademia Arotron con uno spettacolo e termineremo con Mure Teatro, Lupo Incanto. Avremo dei concerti live. A partire dal 13 luglio ospiteremo una preview del Siren Festival, il 14 luglio avremo Ivoina, il 4 agosto avremo Colombre, il 18 agosto ci sarà una notte dedicata all'etichetta discografica V4V e il 25 agosto avremo Niccolò Carnesi. Tutti quanti, fine settimana, comunque il venerdì, il sabato e la domenica, ospitiamo dei DJ set. La cooperativa ETA Beta è già sul territorio da un paio d'anni e si occupa dell'accoglienza, accoglienza migranti. Quest'anno abbiamo voluto partecipare all'assegnazione e all'affidamento di questo ghiosco un po' per allargare anche un po' questo tessuto sociale. Apriamo la pagina dello sport, mancano poche ore all'inizio del ritiro del Pescara, appuntamento per il raduno lunedì al convitto casa d'annunzio, poi la partenza alla volta di Rivi Sondoli. Inizierà dopodomani, lunedì 10 luglio, la stagione del Pescara con la partenza per la prima parte del ritiro di Rivi Sondoli. La squadra si radunerà la mattina al convitto casa d'annunzio per poi dirigersi nel centro aquilano e arrivare a ora di pranzo. Alle 17 si svolgerà il primo allenamento. Farà parte della truppa anche Simone Andrea Ganz. Il centravanti inseguito in questo mese e mezzo sarà in città entro domani e lunedì mattina sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto e iniziare il ritiro. Il Pescara sta ora stringendo per altre entrate. Tra queste il centrocampista centrale Luca Valsania dell'Atalanta lo scorso anno alla Cittadella. Ieri l'agente del calciatore Silvio Pagliari ha incontrato il presidente Sebastiani, il DS Leone e l'allenatore Zeman e l'affare in dirittura d'arrivo. Il Pescara cerca poi il secondo di Fiorillo e lo ha individuato in Boris Radunovic, 21enne portiere serbo, anche egli di proprietà dell'Atalanta, lo scorso anno ad Avellino. Ci sarebbe nel caso uno scambio indiretto di portieri, visto che è ai dettagli la trattativa che sta portando in Irpinia Mirko Pigliacelli, il quale aveva chiesto, ma non ottenuto dal Pescara, garanzie di impiego. Il Pescara attento anche su altri movimenti in uscita. I prossimi giorni saranno decisivi per l'accelerazione della trattativa per Ledyan Memuschia e il Benevento. Il Pescara aspetta proposte apprezzabili anche per Ben Ali, Brugman, Zampano e Biraghi. I giocatori vorrebbero restare in Serie A, ma il Pescara li lascerà andare solo in caso di offerta congrua. In stand-by la trattativa col Chievo per Massimiliano Gatto, mentre a breve il Delfino potrebbe affondare per il difensore centrale Giuseppe Bellusci, di proprietà delle Leeds, e per riportare in riva all'Adriatico il terzino Antonio Balzano dal Cagliari. Trattative che potranno decollare in caso di cessioni di pari ruolo già presenti in Rosa. E ora la Lega Pro, altri due rinforzi in arrivo al Teramo dal Pescara. Si tratta dell'esterno Mancino Manfredo Pietrantonio e del centrocampista Nicolas Benzaia. Nei prossimi giorni il Diavolo cercherà anche l'assalto alla punta. L'obiettivo numero uno rimane Matteo Chinellato. Jacopo Forcella. Manfredo Pietrantonio e Nicolas Benzaia saranno presso due nuovi giocatori del Teramo. Dopo il tris di arrivi ufficializzati ieri dalla società Biancorossa, Calore, Milillo e Paolucci, la connection con il Pescara porterà in dote ad Antonino Asta altri due elementi in grado di dare freschezza e profondità. Ad una rosa che sarà quasi completamente ricostruita. Per Pietrantonio ormai sembra tutto fatto con l'esterno sinistro che dopo le esperienze a Chieti nella stagione 2015-2016 e all'Aquila la passata stagione, adesso è pronto alla prima tra i professionisti con la maglia del diavolo addosso. Sarà alternativo e si giocherà il posto con Diallo. In arrivo sempre dalla cantera Biancazzurra per un reparto di esterni difensivi, arriverà anche Ventola, rifondato nella totalità. Per quanto concerne Benzai, ha discorso simile anche se il centrocampista con l'Aquila prima e col Catanzaro poi ha già messo insieme due campionati di Lega Pro. In Calabria probabilmente si aspettava di trovare maggiore spazio, visto che ha messo insieme solamente sei presenze e mai è stata una situazione nell'undici di iniziale. Gli arrivi di Benzai e le conferme di Amadio e Ilari potrebbero dunque portare anche all'addio di Alessandro Di Paolo Antonio, a cui strizzano l'occhio alcune società di Serie B, Ternana su tutte. Davanti si cercano soluzioni per Sansovini, Barbuti, Tempesti e Petrella, ma con la punta romana ci sarà il confronto più delicato, prima di tuffarsi alla ricerca di attaccanti che possano fare al caso di Asta, visto che il modulo del tecnico di Alcamo potrebbe quasi certamente prevedere un attaccante centrale prestante e in grado di vedere la porta e due giocatori alle sue spalle che abbiano estro ma anche capacità realizzativa. Per il primo profilo si guarda a Matteo Chinellato e non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci un contatto con lo svincolato excomo per capire i reali margini di una trattativa comunque difficile vista soprattutto la concorrenza. Lunedì invece Francesco Carcalis firmerà il contratto che lo legherà al Bassano. L'esterno evidentemente non ha convinto abbastanza a Teramo e il Pescara vuole fargli continuare a fare il percorso di crescita sempre in terza serie. Finisce qui anche la terza edizione del TG6, il nostro notiziario torna lunedì alle ore 14. Io vi auguro una buonanotte e una buona domenica. Grazie. Grazie.